Bella regà, se cercate un'applicazione per risultati sportivi e molto altro non potete che scaricarvi Chrome Score la trovate in descrizione e soprattutto gratuitamente per tutti i store sia per Android che per Apple mi raccomando andate a scaricarla, potete trovare più di mille partite interagire con altri utenti e fare ciò che vi interessa Sì da Mamma mia cosa fa, cosa non ha fatto 30 secondi eh Oh impazzito, ho perso un pallone bene quando ero E anche lui, guarda che tiro Vado Fatti rivedere Perché più passano i minuti Ha paura di tenere la palla No, il problema è che più passano i minuti è più difficile poi fare il gol Perché sembra al portiere? Vada Alberto Ma non si può cambiare Perché si caga in mano, ha paura Si caga in mano e torna in prancia Ma che ti devo dire? Cioè se l'abbiamo preso per giocare devi giocare Sì che bella Ci arrivi, ci arrivi Dai, dai Diamoci a sveglia Ci arriva, adesso fa lui il corso, no? Il corso, tira lui il calcio d'angolo Eh, Candreva tira Eh Vediamo dove arriva No, Candreva deve andare nei spogliatoi Non lì a destra o a sinistra Qual era la palla ancora? Brozovic Brozovic non dovrebbe neanche abitare più a Milano Tira Oddio nooo Dai, il corso Porca miseria Brozovic Mannaggia a lui Così Comunque secondo me Tu li vedi gio... Tu quelli della Juve che giocano così A rilento Tornano indietro tu Cioè Cosmoci non li vedrai mai Ma neanche quelli del Milan li vedi giocare così male Perché in Milano perde ma non gioca così male Cioè non c'hanno voglia Sono sfogliati questi Sono sfogliati porca miseria Guardate se il padre fai gol eh Gol Ma dove? Meno male che c'è... Cioè ma devi ringraziare che c'è andare non ci importa Gol Genova in casa In casa Dai E vai E dai E dai Ma si chiunca se Gambrosio Sceni 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 Mamma mia Che schifo facciamo schifo facciamo S'abbracciano pure Guarda come sono contenti 1 a 0 per grazie No quella non è finita Aspè si Vai a terra 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 Oh rosso Rosso Si ma preferisco il gol Ma il cazzo poteva andare avanti Poteva stare in piedi eh No Dice Si perché secondo me si è lasciato andare Poteva andare Cioè perché si è lasciato andare Cazzo almeno segnava il gol Cioè esattiva Oddio L'altro tunnel oh Cioè E' l'altra munizione Rosso Eh minchia E' entrato con un cane Tu ne hai fatto Eh Hai visto? Devi inquadrarli per farli giocare in un modo Dai Madonna che partitaccia oh Tu pensa No diciamo questo